GIGA Prima cosa ragazzi dovete prendere una penna Blu o nera chi se ne frega Poi prendete un pezzo di carta Ci fate una bella rotolata Come sapete fare voi Insomma poi lo infilate qui in mezzo E poi buttate via la penna Attenzione buttate via la penna si attenzione Poi dopodiché prendete il launchpad Il vostro bellissimo launchpad mk2 Mini che ne so io E finito il tutorial Bene ragazzi in questa seconda parte del tutorial vi insegnerò Come non far laggare le luci Del launchpad ragazzi Dovrete andare Su questo sito e comprare Un Dovrete andare a comprare Questa roba qui USB 3.0 che ne so Io glielo ho comprato e basta Costa appunto poco E quindi Voi con questa scheda USB 3.0 voi potete Potete fare quello che volete L'arcobaleno Il cavolo che volete ragazzi Cioè è un'offerta da non perdere Cioè ragazzi è una cosa che non si può perdere Assolutamente Bene ragazzi comprate la nuova scheda USB 3.0 E noi ci vecchiamo un prossimo video Bella ragazzi E noi ci vediamo E noi ci vediamo E noi ci vediamo